Tractor Loading Page. Sai di cosa sto parlando? Ciao sono Claude e oggi ti farò vedere tutte le impostazioni di questa paginetta di caricamento che è molto importante da settare ai fini del miglior risultato della serata. Ottimo siamo qua con Tractor aperto e andiamo a vedere subito l'argomento di oggi. Rotellina, tasto rotellino ovvero impostazioni preferenze scendendo da audio setup arriverete al loading e avrete questi valori per default. Dovreste avere la situazione così una volta che installate il programma. Andiamoli a vedere uno a uno cosa significano. Loading, la prima è Loading Only Into Stop Deck cioè per evitare di caricare la traccia su quella che sta già andando. Ovviamente sarà capitato a tutti che questa traccia sta andando e io ipotesi carico questa e mi si blocca. Può capitare soprattutto quei controller quando ne avete lavorate con quattro deck. Per evitare questo, molti ci sbattono la testa e non lo sanno, basta flaggare questo quadratino all'inizio in modo che mi arriverà un warning che mi dice che il lettore è bloccato, ferma il lettore prima di caricare un'altra traccia. Quindi importantissimo questo, io lo tengo flaggato però insomma sta un po' a voi. A volte se voglio far veloce mi prendo il rischio, se devo caricare più tracce ripetutamente, non devo aspettare di fermarlo, allora lo faccio però ovviamente mi prendo il rischio io. La seconda, la Stop Playback è alla fine della traccia, se è selezionato ferma la traccia alla fine, cioè quando ha finito il suo percorso, vedete così, arriviamo in fondo, ferma la riproduzione, vedrete il play, ecco qua, che si ferma. Se io lo tolgo questo play continua a girare. Questo non è che ci serva molto però è giusto per spiegarlo, vedete questo continua a girare, non si sa perché però lui gira. La terza opzione è Duplicate Deck When Loading Same Track, cioè se io carico la stessa traccia sul lettore A e B, lui mi duplicherà la stessa riproduzione, cioè sta andando questa, io la ricarico sul destro, vedete che tutte e due me le caricherà allo stesso tempo, nello stesso momento, questo può essere utile per fare dei giochi e con due tracce uguali. La prossima opzione è Load Next At The End Of The Track, cioè caricami la prossima traccia alla fine della mia, alla fine, quindi come visto è l'ipotesi prima di Stop Playback At The End Of Track, lì la ferma, qui la carica, quindi abbiamo Zingaro Master qua, flaggiamo, caricami la prossima alla fine della traccia, andiamoci in fondo, arrivata, nella stessa playlist, se noi non cambiamo playlist vedete che mi carica la successiva coriaceo. Iniziali Queue To Load Marker, significa che Tractor all'inizio stabilirà questo 1, questo load marker che viene chiamato Bit Grid, Auto Grid, in base a come volete voi, praticamente il primo marker sulla prima battuta, che molto spesso può anche non essere giusto, andatevi a vedere tutorial sulla griglia, che è molto importante per risistemare la griglia, quindi se volete che Tractor faccia questo, lasciatelo flaggato, altrimenti se non volete nessun marker all'inizio, volete metterlo voi manualmente, lo deflaggerete. Quello dopo è Activate Fade In and Fade Out Markers, questi due parametri servono a Tractor, a dire all'Automix quali sono i punti di uscita e i punti di entrata, quindi lui automaticamente setterà dei punti in e out per fare il crossfade attraverso le tracce e anche attraverso ovviamente il cruise, cioè l'Automix di Tractor. L'ultimo è a proposito del cruise, lo troviamo qua, che questa opzione Cruise Loops Playlist influenza la modalità cruise, cioè la modalità di crociera, come chiamata in Tractor, che sarebbe l'Automix, cioè quando questa traccia arriva in fondo partirà all'altra. Secondo delle impostazioni andatevi a vedere anche qui il tutorial sull'Automix spiegato nei dettagli, quindi quando quest'opzione sarà selezionata Tractor ripeterà tutte le tracce all'interno della playlist una volta arrivato in fondo, cioè quando qui arriverà la traccia 13 ripartirà dalla traccia 1. Quindi queste sono le impostazioni di loading, ne abbiamo due, anche oggi il bonus track di Resetting Controls. Che cosa sono? Queste due, allora la prima è che se selezionata Tractor resetta, cioè azzera tutti i controlli del lettore, tutti i controlli del lettore al loro valore iniziale una volta che la traccia è caricata, quindi si azzerano tutti i valori del lettore. Mentre quella sotto che è ben più importante, ci può essere molto più utile, è il reset di tutti i controlli del mixer quando carichiamo una traccia. Che cosa significa? Significa che se io ho terminato con questa traccia, questo è come vedo molti mixer con l'equalizzatore così, spero di non farlo, quando andrò a caricare l'altra traccia, se è selezionato questo, cioè reset all mixer control to when loading track, io carico la prossima e vedete che i valori di EQ mi sono riportati, mi sono tornati in flat. Altrimenti se questo non fosse flaggato, facciamo l'ipotesi proprio del dj esagerato che spacca le casse e che poi fa scappare la gente di pista perché se suoni così fa scappare la gente di pista, qui è disattivato il reset, vedete che rimane tutto ancora rovinato sull'equalizzatore. Per riportarlo a zero semplicemente potreste fare doppio clic come su qualsiasi knob di tractor, però è molto più semplice il reset all mixer control su when loading track. Bene, per il loading spero di esservi stato utile, di aver spiegato tutto nel dettaglio che era quello che ci serviva in principal modo. Bene, vi ricordo le lezioni private su corsidjproducer.com e anche le consulenze online. Il canale YouTube, il nostro canale YouTube dove vi chiedo di iscriverci, fateci crescere e la community crescerà con voi anche per motivarmi a mettere sempre più contenuti e sempre più cose nuove che possono interessarvi e aiutarvi ovviamente. Attivate la campanella per avere tutte le notifiche sui nuovi video e sui nuovi contenuti e se vi è piaciuto un bel like che a noi ci piace tanto. Ci siamo e possiamo salutarci qua e vi aspetto al prossimo tutorial sempre su SOS4DJ. Ciao da Claude, ciao!